bla bla baby allora fausto brizzi e alessandro preziosi ancora una volta insieme per questa gradevolissima e simpatica commedia allora fausto di primo acchitto il rimando forse va subito a senti chi parla però il tuo film è molto di più no in realtà più che senti chi parla che tecnicamente era un senti chi pensa visto che sentivamo le voci fuori campo dei pensieri dei bambini qui è più ted o quel tipo di film in cui o dottor dolittle in cui davvero interagisci con in questo caso col bambino in parte vero in parte ricostruito con i vfx c'è una commedia in cui uno dei partner comici dei due partner comici alessandro preziosi e l'altro è un bambino di un anno quindi è un esperimento mai provato insomma di non avere un robot un nemico un alieno ricostruito al computer ma uno dei due comici del film e infatti raccontiamo anche tutto il lavoro che c'è stato di post produzione ed effetti che avete utilizzato c'è stato un grande lavoro di pre produzione un anno di test per capire come girare il film poi le riprese che in parte sono state fatte in stile documentario lasciando la macchina accesa e sperando che il bambino ti regali qualcosa che poi puoi utilizzare all'interno del film e poi c'è stata una lunghissima post produzione durata quasi un anno alessandro stesso ha visto il film poco tempo fa rispetto al fatto che l'abbiamo girato un anno e mezzo fa di solito si finisce un primo montato e immediatamente ci si confronta col cast principale qui c'era ben poco da vedere perché avevamo più di 400 scene che senti 400 shot che senza effetto speciale non avevano senso alessandro invece tu torni alla commedia che insomma per te da che sei sempre impegnato in ruoli soprattutto seri è una sorta un po di divertimento aggiuntivo no e come ti sei trovato a recitare coi piccoli protagonisti ma guarda penso che comunque sia stato perché poi topolino io non te l'ho mai fatto sentire topolino fa cagare eh sì mi faccio male perché non avevo allora la domanda vera è come è stato per i piccoli protagonisti del film recitare con alessandro preziosi ancora più piccolo di loro allora beh tornare a questo genere è stato è stato liberatorio io credo che passare delle giornate recitando e sentendo la fatica perché molto spesso succede nelle giornate che uno trascorre su un set che riesce a fare veramente poco soprattutto se poi fai cinema c'è tanta preparazione ci sono tante incognite tante difficoltà che tu non per quanto tu le sappia che possa succedere qualcosa che non funziona comunque non te l'aspetti non lo vuoi qui invece era tutto talmente imprevedibile ed era tutto talmente una conquista e necessitava tutto talmente una una leggerezza un'attenzione una grande pazienza che è stato seriamente formativo e secondo me anche ben augurante per cercare di di non far passare altri dieci anni per fare un film con Fausto e invece qual è il tuo personale rapporto coi bambini e in particolare quelli più piccoli e in quale dei genitori del film ti sei rispecchiato allora il rapporto con i bambini è un rapporto che continuo assiduamente a ad avere come perno insomma credo che così come ci sono i le persone i passanti che quando vedono un cane fanno quanto sei carino ecco io ho i cani per i quali ho un rispetto ecco invece quando vedo un bambino mi avvicino sempre e non resisto proprio soprattutto se li vedo paciocconi oppure che stanno nel supermercato a fare casino e interagisco sempre nella loro vita quindi è stata una cosa abbastanza insomma normale ecco e il ruolo beh sicuramente non lo so forse quello il mio cioè il mio modo di interagire nonostante che non sia padre nel film però il modo più più dinamico che c'è nel nel film è sicuramente quello che alluca con Martino giusto tra l'altro nel film avevamo una problematica durante le riprese non potevamo affidarci a dei babysitter per i bambini perché il momento del passaggio del bambino dal babysitter a lui sarebbe stato traumatico era lui il babysitter anche fuori dal Chuck perché il bambino doveva affidarsi completamente di lui stare in braccio a lui e non piangere essere assolutamente rilassato con lui quindi lui lavorava full time ok allora per chiudere diamo l'appuntamento al cinema ci vediamo al cinema dal 7 aprile da giovedì 7 aprile potete andare anche allo spettacolo delle 15 non si offende nessuno trovate posto e ci vediamo al cinema tornate tutti al cinema perché il cinema deve continuare a esistere ci vediamo al cinema ci vediamo al cinema dal 7 aprile bla bla baby bla bla baby ecco interprete grazie ciao 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 ciao